Io consiglio a tutti gli amministratori locali, a tutti i presidenti di lavorare sempre come abbiamo fatto fin qui, in pieno coordinamento, noi abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato, molto sofisticato, dobbiamo lavorare quindi a livello centrale col coordinamento ovviamente delle regioni, delle autorità locali per assume decisioni quando servono, perché non possiamo andare in ordine sparso. Grazie